Roman, perché ci hai messo tanto? Pensavo che saresti arrivato almeno con i cerchioni cromati. Divertente. Scommetto 100.000 dollari che vi battono il prossimo quarto di video. Perché? Tu hai 100.000 verdoni? Se il colpo riesce, li avrò. Prossimi tuoi semafori. 100.000. Se il colpo non dovesse riuscire, probabilmente saremo morti. Facciamo un milione. Mi piace. Ok, un milione per un quarto di miglio. Va bene, andata. Rivine una volta sola. Facciamolo. Che ne dici, Dom? Parliamo o corriamo? Non barare stavolta. Ancora ti scotta, eh?